Perché studiare musica contemporanea all'Accademia di Pinerolo? Perché in realtà si tratta di un corso di studi importante nella formazione culturale, musicale, artistica, anche proprio tecnica di un giovane pianista, ma si tratta anche di un repertorio pochissimo frequentato nei nostri conservatori. Io stesso ho poche possibilità di insegnarlo quando faccio lezione in conservatorio ai miei allievi, perché siamo comunque vincolati dai programmi. In questo caso invece c'è una scelta di libertà, una scelta secondo me concordata spesso anche con i ragazzi, in base naturalmente ai loro gusti e alle loro esigenze, e un percorso di scoperta di un repertorio che non soltanto è vastissimo, non soltanto è molto vario e si estende dalla musica atonale alla musica totalmente tonale, da musiche di grande virtuosismo a musiche quasi statiche e meditative. Ma la cosa sorprendente è che gli stili e i linguaggi sono molto diversi e in qualche modo spiazzano anche l'idea corrente di una musica contemporanea che sia sempre ostica. È una musica molto complessa, ma anche capace di sedurre al primo ascolto, in molti casi. Quindi è un corso al quale tengo molto, ringrazio l'Accademia per darmi ormai da tanti anni la possibilità di tenerlo, e devo dire che il successo crescente anche in termini di iscrizioni ci conforta molto e sono convinto che anche quest'anno sarà così. Abbiamo tra l'altro dei bellissimi progetti che facciamo non solo a Pinerolo, ma anche in altre situazioni, per esempio adesso la Società dei Concerti di Milano, con cui la collaborazione continuerà.